Il centro-sinistra punta su Fabrizio Brignolo, che domenica scorsa ha letteralmente sbaragliato gli altri tre avversari, Alberto Pasta, Anna Bosia e Massimo Campaner, ottenendo ben il 61,9% delle preferenze. I voti validi sono stati in tutto 3.426, di cui 2.121 sono andati a Fabrizio Brignolo, 785 ad Anna Bosia, che ha ottenuto il 22,9% dei consensi, 349 ad Alberto Pasta, la cui percentuale di preferenze si è attestata sul 10,1% e infine 171 a Massimo Campaner, con il 4,9% dei voti. Una giornata di grande tensione per i quattro candidati, forse non tutti speravano di vincere, sapevano della forza di Brignolo, ma qualcuno in cuor suo confidava di farcela, superare lo scoglio, sperava di aver convinto i cittadini del centro-sinistra e forse oggi un po' di delusione la prova, ma da domani tutti insieme per mettere in moto la macchina elettorale, uno al fianco dell'altro, come hanno promesso durante la campagna elettorale delle primarie. C'è stata un'affluenza molto alta, sia perché poi il risultato non lascia adito a dubbio di grande scarto, questo vuol dire che la scelta degli elettori è stata chiara e però devo anche dire che sono molto contento di come è stata condotta la campagna, perché tutti i candidati, anche i miei tre competitori, hanno lavorato alacremente, ma in due mesi di campagna, anche molto dura, nessuno di noi ha mai detto mezza parola contro gli altri, questo è un bel presupposto perché da oggi si corre tutti insieme, uniti. Parte ora la rincorsa verso le amministrative, al centro-sinistra basteranno gli alleati attuali per vincere, ne serviranno altri, Brignolo inizia il suo lungo cammino verso le urne del 13 maggio prossimo e già si presenta in modo rinnovato, parlando di una campagna di proposte e non di denigrazione degli avversari. Non attaccherò mai i miei avversari, valorizzerò, spiegherò le mie proposte, ma non arriverò mai allo scontro perché voglio che il giorno dopo le elezioni la maggioranza e la minoranza, nel rispetto dei loro ruoli, comunque lavorino tutte unite nell'interesse della città. La mia è una candidatura per unire la città, non per dividerla.